...politiche del Governo in favore degli anziani, con particolare riferimento all'attuazione della legge delega numero 33 del 2023. Il deputato Molinari ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie, signor Presidente del Consiglio. I dati sull'invecchiamento della popolazione italiana sono inequivocabili. Il combinato disposto dell'aumentata longevità, l'aumentata durata della vita, insieme all'inverno demografico che stiamo vivendo, ci dà un quadro dove è inevitabile che l'invecchiamento della popolazione sarà sempre maggiore, tanto che addirittura, secondo l'Istat, nel 2050 dovremmo arrivare ad avere una popolazione pari tra lavoratori attivi e pensionati. Questo pone il Governo, i governi che verranno, di fronte a una serie di sfide importanti, sfide che non riguardano solo i temi legati alla terza età di cui spesso dibattiamo in quest'Aula, quindi penso alle pensioni, agli investimenti sanitari, alle cuore socioassistenziali, ma ci pongono davanti all'esigenza di rimodellare il sistema di welfare del nostro Paese sulla base della cambiata conformazione sociale che verrà da oggi al futuro. Per questo siamo qui a chiedergli degli aggiornamenti rispetto al provvedimento approvato dal Parlamento l'anno scorso, la legge delega 33 del 23, soprannominato patto per la terza età che dovrebbe occuparsi proprio di questi aspetti. Grazie. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha facoltà di rispondere. Collega Molinari, ringrazio lei e i colleghi della Lega per questa interrogazione. Mi consente di accendere i riflettori su una materia che al Governo sta particolarmente a cuore, cioè garantire alle persone anziane di questa nazione una vecchiaia serena, dignitosa, che ne scongiuri la solitudine, l'isolamento in una società nella quale la cultura dello scarto rischia sempre di avere il sopravvento, mettendo ai margini quella che invece è una indiscutibile ricchezza da valorizzare. In Italia ci sono 14 milioni di anziani, sono la storia di questa nazione, sono il collante delle famiglie, sono uno straordinario ammortizzatore sociale in tempo di crisi e noi abbiamo il dovere di dire loro grazie e di farlo chiaramente non a parole ma con fatti concreti e per questa ragione che, come lei sa, sia con la manovra del 23 che con quella del 24 abbiamo incrementato tutte le pensioni attraverso la rivalutazione, con particolare attenzione a quelle che erano più basse, le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo sono state rivalutate al 100% del tasso di inflazione, le minime hanno avuto un doppio aumento che oggi le porta a 614 euro ed è questa la ragione anche per la quale dall'inizio del mandato abbiamo lavorato per portare a termine una riforma strutturale delle politiche per la terza età che dobbiamo ricordare anche un obiettivo del PNRR. Il 19 gennaio del 23 abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il patto per la terza età, un disegno di legge delega che poi è stato licenziato dal Parlamento a larghissima maggioranza, anche questo vale la pena di essere ricordato. Il PNRR prevede che il decreto attuativo, cioè le norme che servono a rendere concreti i principi della legge, venga esaminato entro il primo trimestre di quest'anno e allora voglio dirle che ci entreremo anche in questo obiettivo e che annuncio che il decreto legislativo arriverà domani in Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Il decreto stanzia complessivamente oltre un miliardo di euro per i primi due anni risorse che servono a garantire all'anziano una vita serena, attiva, dignitosa. Nello specifico, garantendo dove è possibile il diritto di continuare a vivere e a curarsi nella propria casa, semplificando e rafforzando l'accesso ai servizi ma anche le procedure di valutazione della persona non autosufficiente, introducendo in via sperimentale a scelta del cittadino una prestazione universale graduata in base al bisogno per gli anziani non autosufficienti più gravi, più anziani, maggiori difficoltà economiche che consiste nell'aumento di circa il 200% dell'importo dell'assegno di accompagnamento e progetti di coabitazione per gli anziani soli perché possano avere una casa propria senza per questo dover rinunciare a socializzare o avere i servizi necessari. Insomma l'obiettivo è costruire un nuovo sistema di protezione sociale che metta la persona al centro, renda la vita dei non autosufficienti e delle loro famiglie più semplice e protetta partendo da chi fragile tra i fragili ha meno risorse a disposizione. È una riforma d'attesa da oltre vent'anni, è una riforma per la quale io devo ringraziare il lavoro di tutti i ministeri competenti ma è anche una riforma per la quale devo ringraziare questo Parlamento che come ricordavo non ci ha fatto mancare il suo sostegno a facoltà di replicare il deputato Molinari. Grazie signora Presidente del Consiglio siamo molto soddisfatti come gruppo della Lega della risposta che ci ha dato anche perché ha dato due notizie molto importanti. Da una parte il fatto che nel prossimo Consiglio dei Ministri arriveranno i decreti attuativi di questa legge delega quindi si darà forma a questa riforma del sistema del welfare e dall'altra è che c'è una scelta del Governo di investire risorse importanti perché più di un miliardo di euro per il welfare per gli anziani qualcuno potrà dire che non è abbastanza ma è certamente un segnale che denota quella che è la strategia di questo Governo di affrontare in maniera sistemica quelle che sono le problematiche sociali del nostro Paese. Questo è un Governo che nella scorsa legge di bilancio ha deciso di investire tutto quello che poteva proprio sul sociale e questo è un Governo che ha deciso di usare le risorse disponibili per cercare di far fronte a questo invecchiamento della popolazione e cambiare quello che è il trend demografico. Voglio ricordare che le misure sul taglio del cuneo fiscale riguardano tutti i lavoratori attivi e qualcuno potrà dire che non sono abbastanza ma è più di quanto mai sia stato fatto. Qualcuno potrà dire che questo miliardo sul welfare per gli anziani non è abbastanza ma è un segnale che altri non hanno dato. Qualcuno potrà anche dire che le misure per incentivare le assunzioni delle lavoratrici donne o sgravare dal punto di vista fiscale le buste paga delle lavoratrici madri non sia sufficiente ma è comunque un aiuto per cercare di incentivare la natalità. È un approccio sistemico che cerca di fare delle politiche sociali il faro dell'azione di Governo e voglio ricordare che anche sulla sanità i 136 miliardi investiti sono una cifra record che non si era mai vista in quest'anno in questo Parlamento nonostante qualcuno parli di tagli alla sanità. Ecco siamo molto soddisfatti. Riteniamo che ci sia da fare ancora una cosa però signora Presidente. Lei sa che il tema di una riforma organica delle pensioni è un oggetto centrale del programma di Governo e del programma della Lega. Siamo convinti che sia giusto lavorare perché si viva in modo dignitoso la terza età e il pensionamento ma riteniamo che debba essere dignitosa anche l'età in cui si va in pensione e quindi per questo noi siamo qui a rinnovare la richiesta al Governo di lavorare una riforma organica del sistema pensionistico perché dal nostro punto di vista 41 anni sul posto di lavoro sono più che sufficienti per ottenere la meritata pensione. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3933 presentata ai deputati.